Allora, Professor Rino Nappuoli stamattina ha fatto un giro della Sardegna Ricerca, dei vari luoghi, laboratori e appunto anche i luoghi dove vengono fatte poi tutte le analisi informatiche. Qual è stata la sua impressione e che tipo di impressione ha avuto su tutta l'organizzazione? Beh, devo dire che è stata una cosa, una piacevole sorpresa perché ho scoperto una serie di cose che non conoscevo e ho visto l'organizzazione dei laboratori di fase 1, una cosa abbastanza innovativa che non sapevo che esistesse e credo che sia una bella idea, ci dovrebbero essere più esempi di questo tipo nel nostro paese, più organizzazioni per fare in modo organizzato le prove cliniche. Poi ho scoperto il parco Pula che è bellissimo, non solo dal punto di vista ambientale ma ho scoperto che abbiamo uno dei più grossi laboratori di genomi umana in Europa e delle competenze altissime. Quindi il centro di calcolo che è anche questo è uno dei più grandi in Italia e ho visto che essenzialmente qua ci sono le basi per fare delle cose importanti. Oggi l'economia moderna si basa molto sulle nuove tecnologie e sull'innovazione provate dalla scienza e dalle cose. Quindi mi sembra che qua ci siano le basi per promuovere un'economia basata sulla conoscenza. Per me è molto importante averlo scoperto perché in Italia non siamo molti che facciamo cose innovative e quindi è un'opportunità per conoscerci, magari cominciare a lavorare insieme e fare delle cose che da soli non potremmo fare. La Sardegna è anche un luogo interessante dal punto di vista proprio genomico, è un caso, è un laboratorio tutto sommato molto interessante anche proprio per la popolazione, è così? Assolutamente, la popolazione sarda essendo un'isola da moltissimo tempo abbastanza omogenea dal punto di vista genomico quindi offre un'opportunità unica a livello mondiale per fare degli studi di genoma, associazioni di malattie quindi studiando la popolazione sarda si possono trovare delle soluzioni, dei farmaci, delle cose che possono avere un impatto globale quindi è una popolazione molto interessante e riuscire a studiarla dal punto di vista genomico non solo può essere utile alla popolazione locale ma può essere utile per tutto il mondo. Un'ultima domanda ed è questa. Un incontro come quello che si è appena svolto dove si discute di vaccini, si discute delle tecnologie nuove anche quelle diciamo che ancora si stanno mettendo a punto per vedere i vaccini del futuro. Quanto è importante parlare direttamente anche con le persone? Credo che l'esempio che abbiamo avuto dimostra quanto ci sia da fare per comunicare meglio la scienza oggi noi siamo degli utenti ignoranti più o meno della scienza la scienza ha pervaso tutto quello che facciamo dalla mattina quando ci alziamo fino a quando ci addormentiamo sia per la parte della salute sia per tutte le cose tecnologiche che usiamo per i telefoni, i cellulari, le cose, i computer che usiamo è tutto basato sulla scienza e la gente non conosce passiamo pochissimo tempo a educare la gente su quanto sia importante su quali sono le basi, le regole eccetera quindi se facessimo più di questi incontri credo che la società apprezzerebbe di più la tecnologia e la scienza e imparerebbe a usarla meglio Grazie Grazie